Che Alessandro Sallusti sorridevi, tu cosa pensi? Pensi che pezzi di Forza Italia possano fungere da responsabili e aiutare Conte? No, mi fa piacere che Marco Travaglio ha cancellato dal suo vocabolario la parola volta gabbana che ha usato, che usa da anni numerose circostanze. Ma ti ho spiegato che questo è il proporzionale, te l'ho spiegato. No, no, ma che dei partiti si spostino in blocco è una cosa abbastanza, secondo me, inquietante perché tradiscono comunque un mandato elettorale che hanno ricevuto, però la democrazia da noi funziona così. Ma un conto è se si sposta un partito, ripeto già questo è un po' imbarazzante, un conto è se si spostano dei singoli. Quei singoli noi li abbiamo sempre chiamati volta gabbana perché nessuno si sposta gratis, non prendiamoci in giro. Io non penso che il problema sia Renzi, nel senso che proprio perché, come dice Travaglio, Renzi è un partitino del 2%, vuol dire che evidentemente il problema sta nella maggioranza di quella maggioranza perché se no non avrebbe grande senso che facesse tutto sto casino. Lo può fare, si permette di farlo perché entra come il coltello nel burro in una maggioranza che ha altri problemi oltre Renzi. Renzi ne approfitta, ma i problemi della maggioranza non sono Renzi, sono ben altri come è noto. Dopodiché che Forza Italia si renda disponibile a sostituire Renzi lo trovo un'ipotesi, oddio in questo paese abbiamo visto di tutto, il contrario di tutto, però lo troverei veramente un'ipotesi bizzarra e incomprensibile. Se ci saranno dei Volta Gabbana, perché così si chiamano, disposti chi per salvare il posto, chi per avere un sottosecretariato, chi per avere il posto di lavoro, la cugina, a fare un'operazione del genere, lo vedremo. Non è aria secondo me, ma soprattutto non è aria che Mattarella permette un'operazione del genere. Mi sembra di aver capito che Mattarella vuole una maggioranza politica, non una maggioranza numerica. E tu cosa pensi?